Oggi parliamo di una birra italiana, di una birra sour italiana o meglio di una fermentazione spontanea. Made in Italy stiamo parlando di questa cerasella del produttore italiano Maestri del Sannio. Vediamo subito la scheda di questa birra prima di passare a alcune spiegazioni e alla storia di questo birrificio che è molto interessante, storia che esce poi dai confini italiani, ma appunto prima vediamo la scheda. Come anticipato siamo in Italia, Benevento per essere precisi, Campania, il produttore o meglio la birra firm è Maestri del Sannio. Il nome di questa birra è Cerasella. Lo stile di questa birra è una Wild Speciality Beer, categoria 28C del BJCP, anche se non è stato semplice secondo me selezionare o meglio scegliere lo stile di questa birra e infatti poi vedremo perché. Per il momento comunque qui su questa scheda ho messo questo stile. Grato alcolico di questa birra 6 gradi, formato bottiglietta da 33cl, prezzo 6€, acquistata presso un beer shop. Bicchiere, anche qui c'è da discutere sempre sulle fermentazioni spontanee. In alcuni casi vengono suggeriti bicchieri, diciamo, aperti, così diretti Tumblr. Tanti produttori del Belgio hanno questo tipo di bicchiere. Io personalmente tendo a preferire bicchieri a chiudere, sia gli Snifter o Cognac, sia anche bicchiere tulipano, perché la parte aromatica del naso secondo me si esprime meglio in questi bicchieri. E sì, si tratta di un primo assaggio. Vendo dal fondo della scheda, sì, si tratta di un primo assaggio di questa birra, anche se quest'estate ho avuto il piacere di assaggiare sempre di questo produttore la Spaccarella, che era sempre una fermentazione spontanea con albicocche. Mi era piaciuta molto quella birra e ho acquistato infatti anche questa bottiglia per assaggiare questa altra birra, che è sempre una fermentazione spontanea, ma con le ciliegie. E sempre a proposito di fermentazione spontanea, infatti torniamo a uno dei grossi punti di domanda che ho avuto quando stavo compilando questa scheda, in particolare sullo stile. Tecnicamente stiamo parlando di una fermentazione spontanea, non possiamo utilizzare ovviamente la dicitura albic, perché sappiamo che è riservata a quegli stili sia fermentazione spontanea, ma in quella particolare zona del Belgio, che è Pajottenland. Fuori da quella zona non è possibile utilizzare il termine lambic. C'è della frutta, ci sono delle ciliegie, quindi possiamo immaginare qualcosa che ricordi, le cric, sempre belghe. Oltre alla frutta ci sono anche delle varietà di grano diverse dal frumento classico. Infatti mi è venuto in mente che forse poteva essere inserito nella categoria, che è la 31, che è quella con birre con fermentabili alternativi. In particolare la 31A dice proprio alternative grain beer, ed è utilizzata per esempio su birre prodotte quando si usano cereali, mi viene in mente la segale, l'avena, il miglio, il farro anche, ci sono diverse birre fatte con cereali alternativi e che non possono essere classificate in altre categorie, per esempio le hotmail stout, tra l'altro se andate a vedere il video precedente si parla anche di questo stile, che sono appunto stout, ma che prevedono l'utilizzo di avena. Quindi al di fuori di quelle categorie che già hanno caratterizzato il tipo di cereale, esiste questa categoria. Qui in questo caso abbiamo una fermentazione spontanea, abbiamo l'aggiunta di frutta, abbiamo anche un cereale non convenzionale, o meglio una varietà di frumento diciamo non utilizzata tipicamente nella produzione di birre. Per essere però precisi in questo caso il frumento utilizzato è sempre lo stesso genere, la stessa specie di frumento utilizzata nella produzione della maggior parte delle birre con il frumento, si tratta semplicemente di una cultivar, quindi di una varietà, in questo caso locale, molto particolare. Insomma dare un nome, meglio dare uno stile preciso a questa birra è un po' complesso, ma fa parte secondo me del divertimento di andare un po' a cercare quale può essere la classificazione. In questo caso il produttore non indica uno stile in particolare né in etichetta né sul sito internet, quindi possiamo provare appunto a divertirci cercando di farla rientrare in uno stile. Come anticipato si tratta di una beer firm, la beer firm nasce nel 2015 utilizzando il marchio della omonima bottega dove il produttore Armando Romito vende tuttora i prodotti appunto legati a quella zona del territorio che si chiama appunto Sannio, da cui il nome maestro del Sannio ed è appunto questa zona della campagna. Oltre ai prodotti appunto agroalimentari locali inserisce nel 2015 anche una linea di birre e in particolare la birra che inizia a produrre ed è un po' la birra più venduta di questo marchio è la Romanella che è una wheat ale, quindi una birra ad alta fermentazione con il frumento, che utilizza un 40% di appunto grano varietà romanella, che è una cultivara abbastanza antica che viene coltivata appunto in campagna. Una delle caratteristiche di questo grano è anche quella di avere dei chicchi di colore rosso che quindi poi andranno un pochino a caratterizzare anche il prodotto finale. Piccola parentesi un po' più scientifica sulla differenza tra grano, frumento e orzo. Allora partendo dal termine grano appunto, grano indica solitamente un genere. Nella classificazione sappiamo che abbiamo i livelli più bassi della classificazione, più piccoli sono genere e specie. Saccharomyces è il genere, cerevisie è la specie per i lieviti ad alta fermentazione. O se vogliamo spostarci sempre sui eucarioti, ma mammiferi per esempio, Homo sapiens. Homo indica il genere e sapiens la specie, mentre Homo erectus, sempre all'interno del genere Homo, la specie erectus o Homo neandertalensis, la specie neandertalensis. Quindi nel caso di grano noi indichiamo appunto il genere, il cui nome è solidamente ovviamente in latino la classificazione scientifica, che è tritticum e indica appunto il genere. All'interno del genere tritticum ci sono, quelle che sono più interessanti dal punto di vista agroalimentare, sono due le specie, che sono il tritticum estivum, che è il frumento comune utilizzato di solito nelle birre. Esiste poi il tritticum durum, il cui nome corretto scientifico in italiano è frumento tetraploide o comunemente chiamato grano duro, ed è quello con cui di solito si fa la pasta e qualche tipologia particolare di panificato. In generale quindi il termine grano si intende è questo genere di cui ci sono queste due specie, il frumento comune e il frumento appunto duro. Quello utilizzato tipicamente per le birre è il primo dei due infatti, il tritticum estivum. Spostandoci invece all'orzo, anche in questo caso orzo indica un genere, ci sono diverse specie all'interno di questo genere. Le due interessanti dal punto di vista agroalimentare in questo caso sono genere sempre appunto ordeum e c'è la specie ordeum disticum che è l'orzo distico. Distico si intende principalmente che sulla spiga ci sono le cariossidi, quindi chicchi di orzo, che fanno disticum, quindi due file separate sulla spiga. Esiste poi un'altra specie che è l'ordium vulgare che è polistico, cioè ci possono essere all'interno della specie ordeum vulgare diverse varietà. Alcune sono diciamo esastiche, quindi di solito hanno sei file di cariossidi. Ci sono anche quelle tetrastiche che ne hanno quattro. Comunque stiamo parlando sempre di varietà all'interno della stessa specie. Anche se nel caso dell'orzo la classificazione scientifica è un pochino dibattuta, cioè alcuni agronomi sostengono che questa particolare varietà rientri in una specie oppure rientri in un'altra specie, quindi è un attimino dibattuta. Fatto sta che comunque le due varietà che interessano a noi, più utilizzate principalmente per cibo e birra, anche che sono queste due. Quindi quando noi parliamo di grano, in questo caso stiamo parlando di un tipo di frumento e spesso nelle fermentazioni spontanee si utilizza il frumento, indicativamente un 30-40% del gris totale, cioè dell'insieme totale di cereali. È composto nei lambic, perlomeno di tradizione belga, nei lambic è sul 30-40%. Quando ci riferiamo a malto ricordiamoci che non stiamo parlando di un cereale, non esiste il cereale malto, esiste però la possibilità di maltare, quindi di fare un particolare processo a tutti i cereali che vogliamo, siano essi orzo, tipicamente il malto si fa con l'orzo, il malto per la birra è malto d'orzo, ma ci sono anche frumenti maltati, si può maltare l'avena, ci sono, ho assaggiato recentemente una IPA fatta con della segale maltata, molto interessante perché è caratterizzante anche in basse quantità e quindi si può maltare praticamente qualsiasi cereale. La maltazione è un processo che prevede che il chicco del cereale venga messo in un ambiente molto umido, tipicamente in acqua, quando incominciano a spuntare da un lato la radichetta, dall'altro la prima fogliolina o le prime foglioline, viene interrotta la germinazione, viene asciugato, essiccato e poi può subire diverse tipologie di maltazione. Infatti ricordiamoci che lo stesso cereale può essere maltato in tantissimi modi diversi. Questo secondo me è importante per ricordarsi quant'è la variabilità all'interno del panorama beer perché gli ingredienti è vero che sono pochi ma i processi sono tanti, quindi io lo stesso tipologia di cereale, lo stesso cereale lo posso maltare in modi diversi andando a lavorare su la temperatura, la durata dell'esticazione, il livello di umidità durante il processo di essicazione o per esempio mi vengono in mente tutte le rock beer tipicamente della zona di Bamberga dove ci sono i malti fatti con un processo di affumicatura e quindi posso scegliere il tipo di affumicatura, la temperatura, il tipo di legno con cui effettuare l'affumicatura oppure posso tostare durante il processo di maltazione oppure posso scegliere una temperatura tale, un'umidità per cui vado a caramellare gli amidi presenti nel chicco, quindi ottengo tutto il filo dei malti cara o dei malti crystal oppure posso bruciare appunto, quindi c'è una variabilità estrema nei parametri che posso andare a modulare per effettuare la maltazione di un singolo cereale e tutta questa variabilità c'è per ogni tipo di cereale che vado a scegliere. Perché si fa la maltazione? Beh, tipicamente si fa per due motivi, innanzitutto per rendere disponibili e accessibili sia gli zuccheri o meglio i carboidrati all'interno del cereale sia tutti gli enzimi che poi serviranno proprio per andare a rompere e degradare le catene di amido, quindi di queste lunghe catene di carboidrati che ci sono nell'interno del cereale. Un altro motivo per cui si fa la maltazione e anche ovviamente la caratterizzazione organolettica, quindi posso dare un particolare sapore, sentore, profumo, flavor a quel tipo di cereale in base alla maltazione che vado a scegliere. Sempre per ricollegarci all'ultima puntata di questo canale dove si parlava della nascita delle porter, delle stout, se ricordate avevo provato a fare un piccolo discorso introduttivo in cui si parlava delle birre brown inglesi in cui c'era un po' un compromesso tra avere malti chiari, malti pale, quindi con tanti zuccheri, tanti carboidrati accessibili e i malti invece scuri dove i malti sono, i carboidrati sono meno accessibili ma abbiamo un maggiore profilo diciamo gustativo e quindi questo compromesso da dover fare da parte del Master Beer Raio. Ovviamente anche oggi quando si fanno i malti si fa questa cosa qui perché se noi pensiamo ai tutti i malti black, i malti roasted abbiamo praticamente una capacità di arrivare a questi zuccheri minima ma abbiamo una grande caratterizzazione ovviamente aromatica. Infatti tipicamente tutti i malti speciali, cioè i malti che hanno subito questi trattamenti, sono una frazione molto più bassa dei malti base dove invece, malti pale per intenderci, dove invece i carboidrati sono facilmente accessibili da parte degli enzimi prima e del lievito poi. Dovevo essere una breve parentesi ma mi sono fatto prendere dal potere della scienza e mi sono messo a parlare d'altro. Comunque, tornando alla storia del birrificio, nota molto interessante di questo produttore è che nel 2018 c'è l'incontro tra Maestri del Sagno e Cantillon. Infatti c'è stato il primo tentativo di produrre un lambic che appunto ricordiamo i lambic hanno tra il 30 e il 40% di frumento con il grano, quindi frumento, di questa zona appunto e provare a fare un lambic con un grano antico. L'esperimento non è ancora in commercio perché se non erro dovrebbe essere pronto quest'anno, sì nel 2020, perché deve riposare due anni in botte questo lambic prodotto appunto da Cantillon con questo grano campano e vedremo appunto quale sarà il risultato. Tra l'altro leggevo che alcune delle botte utilizzate per l'invecchiamento sono botte italiane utilizzate per un vino sempre appunto campano. Bene, direi che l'introduzione è stata sufficientemente lunga e possiamo passare alla degustazione di questa birra. Non ho ancora detto niente vero sull'estetica, allora velocemente, tappo un po' completamente nero, non c'è alcun logo. La forma di queste bottiglie a me piace molto, è un po' a birillo per così dire, mi ricorda le bottiglie di birra dell'eremo di cui ammetto di essere un gran fan e di averne bevute parecchie. L'etichetta è interessante perché c'è una singola etichetta appiccata frontalmente, tra l'altro sembra stampata su una carta piuttosto ruvida, non lucida e non è anche incollata perfettamente e dà un tono particolarmente artigianale infatti al prodotto. Le informazioni contenute sono ovviamente il produttore, maestri del sagno e il nome di questa birra Cerasella 2017, importante ovviamente così come nei vini, nelle birre millesimate, indicare l'anno di produzione nel momento che stiamo parlando di una fermentazione spontanea, quindi mostro lasciato all'aria aperta, che verrà attaccato da microrganismi presenti in quella particolare zona e in quel particolare periodo dell'anno e faranno partire appunto naturalmente la fermentazione. Ingredienti acqua, malto d'orzo, frumento non maltato, varietà romanella, è riportata appunto la cultivar, ciliegia, lupolo. Sull'altro lato c'è la data di scadenza che è fissata al 2033, questo interessante, praticamente quasi nessuna birra, soprattutto birre artigianali e in particolar modo ovviamente le spontanee praticamente non hanno una data di scadenza e ovviamente per legge è necessario, soprattutto parlo per quanto riguarda la legge italiana, in altre parti del mondo non lo so, ma è necessario indicare una data di scadenza. Ed è interessante anche secondo me valutare un po' quando queste birre, soprattutto quelle che possono invecchiare, e possono raggiungere il loro momento migliore. Ok, passiamo quindi all'apertura della birra. Ecco perché ho messo qui due bicchieri. Allora, come dicevo all'inizio, sono sempre indeciso sul bicchiere da utilizzare per le spontanee. Questo è un bicchiere di morso bit e come vedete è un tanner, tra l'altro una base quadrata, ma di per sé è un bicchiere aperto. Sì, tradizionalmente i lambi che vengono serviti in questo bicchiere, il bicchiere simbolo anche di Cantillon, visto che l'abbiamo appena citato per la collaborazione, è spesso un tumbler con la parte liscia superiore con il logo di Cantillon, ma secondo me i bicchiere a chiudere sono comunque un pochino meglio. In questo caso io ho un tulipano molto classico, un vecchio bicchiere di Duvel, che però tengo in casa perché per le belghe secondo me va sempre bene e penso di utilizzare questo bicchiere qui. Adesso, come vedete, c'era un po' d'acqua perché l'ho appena lavato. Ecco, mi fermo perché incomincio già a vedere che c'è parecchio fondo che incomincia a sollevarsi. Ora, vedete, c'è ancora parecchia birra all'interno, ma per la prima degustazione preferisco lasciare tutto il fondo qui. Adesso, già in quanto a luce è completamente torbido il fondo di questa bottiglia proprio perché appunto in questi giorni si è depositato. A dire il vero, la bottiglia è in frigorifero ormai da qualche mese e quindi si è fatto un bellissimo deposito sul fondo. A volte nei lambic, vedete, si sono conservati correttamente, quindi quelli con il tappo in sughero in orizzontale. Vedete che si forma tutto il deposito sul lato della bottiglia e se vi vengono serviti nei cestini, ora forse ce n'è uno qua dietro, sì, lo dovreste vedere qui più o meno. Se vi vengono serviti nei cestini, la bottiglia resta in orizzontale e si forma questo bel fondo tutto sul lato lungo della bottiglia. In questo caso l'ho mossa, è già completamente torbido. Dopo degusterò anche questa parte, ma adesso appunto ho preferito versare solo la parte limpida. Quindi per quanto riguarda il colore, è un bellissimo color rubino, perfettamente limpida, con dei riflessi più chiari e davvero molto molto limpida, è il colore molto acceso. La schiuma è poco persistente, con una grana non molto regolare, è abbastanza grossolana e ricorda tantissimo visivamente una cric, che è quello che mi aspetto da questo tipo di birra. Fermentazione spontanea, ciliegia, in testa ho già il ricordo di una cric. Passiamo al naso. Intensità aromatica, direi abbastanza delicata, abbastanza bassa, molto complessa sicuramente e già la mia mente sta davvero andando nella direzione belgio. Cosa c'è? Sicuramente c'è tutto quel bouquet fantastico associato alle spontanee, che va dalla cantina alla muffa alla paglia e c'è anche una parte di ovviamente frutta, ma è sicuramente in secondo piano rispetto ai sentori diciamo classici dall'ambic che sentiamo con il naso. Nei vari profumi che caratterizzano le fermentazioni spontanee è interessante secondo me notare di come ci sia un generale, un'impressione generale comune alle spontanee, ma poi è interessante cercare cosa prevale. Mi viene in mente birra in cui prevale chiaramente, o meglio l'ambicchio in cui prevale chiaramente per esempio secondo me il cuoio, ci sono invece come in questo caso fermentazioni spontanee in cui prevale nettamente o meglio sugli altri aromi del pacchetto fermentazione spontanea emerge un po' di più il profumo in questo caso di erba, di paiga e di fieno, diciamo che siamo in quel aspetto aromatico. Beh direi che il profumo è troppo invitante e dobbiamo per forza passare la bocca. Interessantissima. Allora facciamo un po' di ordine e cerchiamo di abbassare l'entusiasmo e per essere un attimino più oggettivi partendo dalle sensazioni gustative. Dolce sicuramente, prevale il dolce, quello che poi dopo in fondo ritroviamo come fruttato, ma il dolce è il gusto dominante a cui associamo ovviamente anche l'aspro, o meglio l'acido, sempre perché stiamo parlando dei gusti fondamentali. Dolce, amaro, acido, salato e se vogliamo anche umami. In questo caso dolce e acido sono sicuramente le due componenti prevalenti. Leggermente amaro e forse, ma proprio proprio sul finale, mi sembra che lasci una leggerissima sapidità in bocca, ma proprio molto molto leggera. Passando alle sensazioni boccali, appunto, sicuramente c'è una buona frizzantezza e c'è questa acidità che ovviamente pervade la bocca e molto importante, rispetto alle fermentazioni spontanee a molte sour, a stringenza molto bassa, considerando lo stile, diciamo non è quella birra così allappante come me la sarei aspettata. Davvero molto delicata, ma molto interessante perché l'acidità non è aggressiva ed è perfettamente in equilibrio con questa dolcezza e questo sapore affruttato che poi resta in bocca. Essendo anche l'acidità abbastanza contenuta, io mi sentirei di consigliarla a chi magari non ha mai bevuto una birra a fermentazione spontanea e mi sentirei di consigliarla prima di arrivare a Crick di un certo livello, quale l'acqua e i verenè di Lindemans, oppure sempre per stare su Lindemans mi viene in mente piuttosto che bere la Crick, la bottigliettina, quella dolcissima che di fermentazione spontanea l'ambic ha solo forse il ricordo o neanche quello, sembra davvero un succo di frutta, ecco piuttosto che prendere la strada e avvicinarsi alle spontanee da quel lato con quei succhi di frutta un po' artificiali, questo potrebbe essere un buon esempio. Siamo già su un livello di acidità considerevole, ma siamo comunque tutto sommato a livelli non aggressivi o comunque che non spaventano secondo me il consumatore occasionale. Detto ciò, se invece avete già ben idea di cos'è una fermentazione spontanea, cos'è una birra acida, cos'è un lambic, cos'è una Crick, beh trovate secondo me estremamente interessante questa birra perché è equilibratissima ed è davvero delicata nel suo essere comunque una birra acida. Concludendo, mi era già piaciuta moltissimo la birra alle albicocche e confermo le mie impressioni estremamente positive su questo birraificio, complimenti ancora, questa era la Cerasella di Mastri del Sagno, Skoll. Grazie per la visione!